Musica Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Questa è la rassegna stampa di oggi Oggi siamo al 18 di giugno 2018 Siamo in diretta, questa è la prima edizione Quella che solitamente va in diretta sul canale 17 di Fano TV Poi le repliche che si susseguiranno fino alle 8.30 Poi alle 9.10, alle 11, alle 13.30 L'ultimo passaggio in televisione Ma poi vi ricordo che c'è anche l'on demand Quindi sul sito internet, su Facebook Anzi salutiamo anche quelli che ci seguono su Facebook e su Youtube Insomma più di così non sappiamo come fare Per darvi la possibilità di leggere i giornali insieme a noi E tra poco lo faremo Oggi parleremo delle frecce tricolori Parleremo di Fiorello che è stato scovato dal Corriere Adriatico a Pesaro Insieme alla famiglia E poi purtroppo una notizia di cronaca Ce n'è diversa di cronaca questa mattina Come la morte di una donna in provincia di Pesaro Trovata morta dopo alcuni giorni da un vicino di casa Di questo e di altro tra pochissimo Prima il Santo del Giorno Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Gregorio Barbarico È nato a Venezia nel 1625 Il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.53 Il tempo per oggi sarà soleggiato su tutta la regione Marche Soltanto un po' di nuvolosità diffusa Ma nel pomeriggio migliore Su tutta la costa splenderà il sole La notte passerà e trascorrerà serena Domani martedì ancora bel tempo Al mattino pomeriggio e vedete anche la sera Soltanto mercoledì cambierà un po' Soprattutto nel pomeriggio Guardate la grafica Sulla parte settentrionale Centro settentrionale della regione Nella parte montana Ci sarà qualche piovasco E a sud invece in provincia di Ascoli Piceno Su Sibillini qualche temporale Il cosiddetto temporale estivo Ma comincerei io questa mattina Con l'andare a vedere una segnalazione Che il nostro, uno dei tanti reporter di strada Che abbiamo e sono tanti E li ringraziamo sul nostro portale Sulla nostra pagina Facebook Reporter di strada Cercatela su Facebook e iscrivetevi Siamo già più di 4.000 4.100 e qualche cosa Dicevo il nostro reporter Un nostro reporter di strada Dino Carboni ci ha mandato questo video Che evidentemente ha girato ieri Allora adesso ve lo faccio vedere Intanto vi leggo di che cosa si tratta Mentre lo mandiamo in play Questo tombino che adesso vedrete Aperto, è profondo, più di 3 metri Il coperchio è sul fianco Appesantito da celebri Che manualmente non si riesce a spostare Non è un campo molto frequentato Ma è vicino C'è una sala di vita a feste di compleanno Siamo vicino a Bellocchi di Fano Non vorrei che qualcuno venisse Avvenisse la voglia di andare a giocare su questo campo E siccome Insomma come adesso c'è un po' di erba alta Insomma qualcuno ci finisse dentro Guarda, fa un po' impressione Quando ci sono questi buchi in mezzo al terreno Questo tombino Fa un po' impressione Allora quindi la segnalazione è stata lanciata Siamo vicino a Bellocchi di Fano Vedete giù ci sono i capannoni Lì c'è la strada Siamo ecco al troni Vedete il troni Tanto per non fare pubblicità Insomma ecco però Questo è un po' la Qui sia Questo è il campo A cui fa riferimento il nostro segnalatore Che ringraziamo E adesso andiamo a leggere i giornali invece Andiamo e partiamo dalla prima pagina Del Corriere Adriatico Che troverete in Edicola A 1,20 euro Con il Messaggero La pagina nazionale Tutti stregati dalle frecce Show da brividi per 60 mila persone Ingorghi e sosta selvaggia Ma il dispositivo di sicurezza Tiene il sindaco di Pesaro Ricci Al settimo cielo Ed eccolo qua Fiorello Blitz e risate All'Eccelsior Sono venuto a Pesaro Dice lui scherzando In bici politana Gag e battute Con Minuz e Fradeani Mattinata di relax Con moglie e figlie Dopo l'anniversario Ne parla a pagina 2 Silvia Sinibali Andiamo adesso invece A vedere un po' di fotografia Il titolo Come abbiamo visto 60 mila Con il naso all'insù Per 5 chilometri Di tricolore Spettacolo superbo Nei cieli Della città di Pesaro Con le acrobazie Delle frecce 25 minuti Mozzafiato Brividi Adrenalina Tra le note Dell'inno E la voce di Pavarotti Ricci Entusiasta Tra la folla E Ancora Sulla seconda pagina Del Corriere Adriatico La Statale diventa Un parcheggio Lungo 11 chilometri Qualche ingorgo E un po' di ressa L'apparato però Di sicurezza Ha tenuto È stata una prova importante Per tutto questo apparato Di sicurezza Cittadino Pesarese La macchina Retto E tutto ha funzionato Nonostante la concomitanza Va ricordato anche Di altri eventi Presenti in città Sul lungomare Mentre dicevamo di Fiorello Con le sue battute All'hotel Excelsior A Pesaro Che era con la famiglia Bermudone blu E addominali provati Dai festeggiamenti Del giorno prima Fiorello non è sfuggito All'occhio attento Dei bagnanti Mentre ieri mattina Si rinfrescava Nello specchio d'acqua Prospicente All'hotel Excelsior Insieme alle figlie Olivia e Angela E alla moglie Susanna Un blitz Dopo la due giorni Riccionese In cui lo showman Ha festeggiato I 15 anni di nozze In compagnia Dell'intera famiglia La morte di Picozzi Che Milanese di nascita Con la grande passione Per la storia pesarese E' morto nella sua casa L'ex dirigente dell'ABS Ed ex amministratore delegato Viet Silvio Picozzi Aveva 79 anni E da tempo combatteva Con una malattia Che ieri ha avuto il sopravvento Lascia la moglie Laura E il figlio Pietro L'altra pagina Del Corriere E' per la cronaca Un pesarese Che è morto In Umbria Scontro In curva Muore un centauro Moto contro furgone Sulla provinciale Umbria Che da Norcia Porta a Preci Vittima Un 67enne pesarese L'uomo viaggiava In gruppo Con alcuni amici L'impatto All'ora di pranzo La strada E' stata chiusa Per ore Mentre la soldatessa ferita Nel poligono di tiro A Carpegna La perizia Per lei E 5 indagati Servirà una perizia balistica Ma intanto Sono 5 militari Indagati Dalla procura di Urbino Per l'errore di tiro Avvenuto nel poligono Di Carpegna Durante una esercitazione Del reggimento Paracadutisti Del folgore La pagina di Fano Apre con il degrado Nel salotto Quello che un tempo Era il salotto Perché non lo è più Il Lido di Fano Salotto del turismo Al Lido Parcheggi selvaggi Verde in colto E cassonetti stracolmi Protestano residenti operatori Turiani dice Qui è necessaria Una manutenzione Costante E vigilanza continua Delle forze Dell'ordine Soprattutto bisogna Assicurare Un intervento Di manutenzione costante Una vigilanza Della polizia locale E delle forze Dell'ordine Sia di giorno Ma anche E soprattutto Di notte Visto che Il Lido è frequentato Fino a notte Inoltrata E a proposito Di controlli E forze dell'ordine Il Lido Poco più in là A nord Ha l'Arzilla Dove Questo posto È frequentatissimo Dai giovani Dalla movida Ebbene Zuffa nella notte Questo è il titolo All'Arzilla Una telefonata Lancia l'allarme Correte Si stanno pestando A sangue Ma all'arrivo Dei carabinieri Non c'era più nessuno Albanesi Contro italiani E questa è la segnalazione Che è arrivata Al 112 Intorno alle 4 Dell'altra notte Una richiesta Di intervento urgente Quando però Come dicevo La patuglia è arrivata Non c'era ormai Più nessuno Evidentemente qualcuno Poi ha preferito Andarsene Per non trovare grane Poi un cucciolo Di delfino Che è stato Trovato Morto Come vedete La foto è stata Tratta Da Fano TV Il nostro sito L'ha postata L'altro giorno E il corriere Adriatico L'ha informato Giustamente I suoi lettori Di questo Di questo Ritrovamento Davanti Allo stabilimento Balneare Oasi A Marotta Di Mondolfo L'animale Presentava una ferita Sulla parte destra Del corpo I bagnanti Hanno immediatamente Allertato La guardia Costiera Di Fano Da Vallefoglia Invece Il calcio In primo piano Trionfo Rissa E paradiso A tre anni Dalla sanguinosa Fine del Reale Il Montecchio Ha battezzato La stagione Della rinascita Con una meritatissima Promozione In seconda Categoria I biancorossi Perdono a Dancona Ma dopo il 4 1 dell'andata Salgono comunque E vengono promossi Animi tesi Però a fine partita Squadra costretta A lasciare lo stadio Sotto scorta Poi esplode La festa E c'è anche la notizia Di spalla Qui di un incidente Un maxi schianto Nella notte Sempre a Vallefoglia Coinvolte tre automobili Ferite sei persone Un frontale a Pian Mauro La strada è stata bloccata Per diverse ore Ma andiamo al furlo Per vedere invece Nella pagina di Urbino Quindi Fermignano Queste immagini Sono fotografie Che parlano più di qualunque altra parola Ovvero Il degrado anche al furlo Furlo abbandonato Vergogna Parco di Petralate Area picnic Ridotti ad una giungla E dall'erba Spuntano i rifiuti Ma c'è anche chi dice Di aver paura Persino di sedersi Confessa una signora Perché Qui si possono incontrare Serpi Ratti Ed è una cosa Pressoché normale Trovarli Io Quindi non voglio rischiare Dice ancora Preferisco camminare In mezzo alla vecchia Flaminia E fare più attenzione Agli automobilisti Ai ciclisti E ai motorini Piuttosto che fare Imprevisti incontri Con il rischio Che qualche conducente Non ci veda E ci investe Insomma meglio Insomma rischiare Con gli automobilisti Che un morso Magari pure Da una vipera Le bisce Non fanno Non fanno Granché Insomma Non fanno male Andiamo invece Sulla pagina di Pesaro Perché ahimè Oggi Bisogna Mettersi In coda Alle poste In banca Per pagare Le tasse La Tarsi La Tasi L'Imu Il giorno del Salasso Oggi c'è questa scadenza Dei pagamenti Delle tre imposte comunali A Pesaro Si prevedono file Nelle banche Alle poste Le variabili Nell'applicazione Delle aliquote E delle percentuali Nel complesso Valgono comunque 41,5 milioni di euro E scadono oggi Quindi questi termini Per pagare Queste principali Tasse comunali L'Imu Tasi È la tassa Del servizio Di igiene urbana E il Corriere Adriatico Ricorda un po' Le aliquote Cioè chi sale Cioè chi scende Un po' è aumentata Qualcosa è diminuito Ma parliamo di zero virgola Salvato invece È qui ancora cronaca Da pecchio Piobbico anzi Stava iniziando Con la sua compagna Ieri verso le 12.30 La solita arrampicata Domenicale Nello scenario splendido Di via dello spigolo Scusate Sì Via dello spigolo Di balza forata Poi a un certo punto Mentre fa la chiodatura Della parete Un corinaldese Di 38 anni È scivolato Ha riportato La lussazione Di una spalla Qui poi è stato dato l'allarme E c'è stato questo soccorso Tecnologico Per portarlo in salvo Dicevamo da Mondolfo Una donna di 59 anni Ritrovata senza vita In casa dai vicini La drammatica scoperta È stata fatta Nel primo pomeriggio Di ieri In via Cavour Dove sono sopraggiunti La polizia municipale I carabinieri E l'ambulanza Del 118 Di Marotta Purtroppo Per Paola Nadia Zurli Originaria di Roma Ma Per Da almeno dieci anni A Mondolfo Non c'era Nulla Da fare E adesso Comunque indagano I carabinieri Romagna La pagina della Romagna Del carriere Di questa mattina Moto Day Tinge tutto Di giallo Da Tavuglia Successo per il primo Motoraduno Nella terra dei piloti motori Guidato Dalla sindaco In sella Almeno in mille Sono arrivati Da tutta Italia Hanno poi seguito Il Gran Premio di Catalogna Con Valentino Rossi Che è salito sul podio Ed è finito Terzo Da Senigallia Invece Chi con la moto Purtroppo Ci è andato È andato contro Ha avuto un incidente Un incrocio maledetto A Senigallia Ha provocato Questo Incidente gravissimo Nel quale è rimasto Vittima Francesco Bastianone Di 58 anni Che si è scontrato Sulla statale Con un'auto Che sbucava da via Perilli E adesso Questo barista Che è volato Dallo scooter È gravissimo Ricoverato All'ospedale Regionale Poi invece Sempre sulla pagina Di Senigallia L'addio a Fattori Giuseppina Fattori Ex sindaco Di Castelcolonna Aveva 55 anni Geologa Con la passione Per la politica Ed è scomparsa Appunto Ieri Il laureato In geologia Era titolare Di uno studio Appunto Di geologia Fino Al 2004 Dal 95 Al 2004 È stato sindaco Di Castelcolonna Municipalità Confluita Nel comune Di Trecastelli Adesso la pagina di Iesi Anche qui Un altro incidente Ancora Va al mare in moto Vola sul guardrail Grave Dopo lo schianto In superstrada Soccorso Un fabrianese Di 33 anni Il traffico In tilt Una donna Che ha assistito A questo incidente Si è sentita male Ed è stata Soccorsa anche lei Dal 118 Chiudiamo il Corriere Adriatico E apriamo adesso Il resto del Carlino In primo piano La fotonotizia Bulli sfidano la morte Nel quartiere Vallato di Fano Ragazzini si stendono a terra In strada E si alzano Prima di venire travolti È una baby gang Che picchia E terrorizza E scusate E terrorizza Quello Dei ragazzini Si stendono a terra In strada Che si alzano Prima di venire travolti Purtroppo È una cosa Non nuova L'avevamo già denunciata Qualche tempo fa Qualche genitore Preoccupato Ha chiamato Più volte Per dire Insomma sia a Sant'Orso Ma anche al Vallato Insomma Sono così Purtroppo Sono segni dei tempi Anche questi Pattuglia acrobatica Magica Così il cielo Si tinge di tricolore Per gli organizzatori Almeno 60.000 persone Sulla spiaggia A Pesaro E poi schianto Con la moto Muore un ingegnere Pesarese Di 67 anni In Umbria E ancora Motoraduno Per 600 Il casco di Vale Va a Fano E le pagine interne Dicevamo anche qui Due pagine Il resto del Carlino Questa mattina Dedica all'evento Delle frecce tricolori Ricci dice Gli aerei delle frecce Rappresentano il senso Della nostra identità E poi Paolini L'onorevole Paolini Della Lega Sono solidale Con i 5 stelle Minacciati Sulla vicenda Grisli Il parlamentare Regista dice Anche noi Chiediamo chiarezza Al comune di Fano Dunque Paolini Esprime solidarietà Al 5 stelle di Fano Per le minacce Che hanno ricevuto Su Facebook Da un componente Del collettivo Grisli Dovete morire male E lentamente Il Grisli Non si tocca Poi un hashtag Io sto con il Grisli Ha scritto un 35enne All'indomani Della presentazione In consiglio comunale Di una interrogazione Da parte del 5 stelle Per sapere come mai Il comune di Fano Non sia ancora Rientrato in possesso Di questo immobile Che molti avrete riconosciuto Che si trova in via della colonna Nella zona del Vallato Poi una donna Anche qui La cronaca Di 57 anni Trovata morta Viveva sola E faceva la badante E poi la replica Dell'assessore Vittorio Sgarbi A Ermanno Torrico Del partito comunista italiano Sgarbi dice Su di me solo Si sono scritte Tante bugie E poi c'è la lettera Che l'assessore Alla cultura di Urbino Ha scritto appunto A Torrico Poi schianto in curva Muore un 67enne In moto La vittima è Massimo della Fornace Ingegnere pesarese L'incidente è avvenuto A Preci In provincia di Perugia E sotto 600 centauri Riempiono Tavuglia Per il primo Moto Raduno La pagina Due pagine di sport Velocissime Questa è la prima pagina Del quotidiano sportivo Con Giulio Spred Clamorosa sconfitta L'esordio della Germania Vince il Messico 1 a 0 Stenta anche il Brasile Solo 1 a 1 con la Svizzera Poi vola Lorenzo Ma è vale il vero rivale di Marquez E il futuro dell'Alma Si decide a Roma Non c'è nulla di scontato E la pagina di sport Invece del Corriere Adriatico Oggi per il Fano È il giorno più lungo Per la cessione Del club Granata Come promesso Oggi Gabellini andrà Dal notaio E gli altri Vedremo E staremo a vedere Che cosa succederà Intanto per la Vis A Pesaro La panchina della Vis Duello tra Bellucci e Cavasin Determinante nelle scelte Anche dei giocatori Sarà il rapporto Con la Sampdoria La rassegna stampa Di questo lunedì Finisce qua Io vi ringrazio Per averci seguito Noi ci vedremo stasera Alle 20.30 Con il telegiornale E come sempre Se avete delle segnalazioni Da farci Questo è il numero di telefono 338 4968 250 Al quale potete inviare Foto, video e massaggi di testo Anche con l'applicazione gratuita Whatsapp Noi ci vediamo quindi stasera Grazie per essere stati con noi Buona giornata a tutti